FENT 800 Vario, i trattori di alta potenza compatti. Questa serie molto versatile unisce prestazioni di punta alla maneggevolezza di una macchina di media potenza. Con il nuovo modello di punta, l'820 Vario, la serie 800 Vario varca per la prima volta la soglia dei 200 cavalli. Con la sua dotazione di serie soddisfa anche i più esigenti. Soluzioni tecniche d'avanguardia ci permettono di ridurre i consumi fino al 10%. Vantaggi che non hanno bisogno di essere commentati. Un ottimo rapporto peso-potenza di 33 kg per cavallo per l'820 Vario. Un elevato carico utile grazie al peso massimo consentito di 12 tonnellate e mezza. Pneumatici da 42 pollici sono di serie. L'esclusivo cambio Vario contribuisce a ridurre i costi di esercizio. L'800 Vario invece può vantare una struttura molto leggera e un'ampia scelta di pneumatici. Inoltre può essere zavorrato individualmente proprio in base alle necessità del momento. Che il trattore venga utilizzato nel campo aperto, in foragicoltura o per i trattamenti. Per essere competitivi occorre abbassare i costi operativi e quindi i consumi. I motori degli 800 Vario sfruttano le tecnologie più avanzate per rispettare già ora le future norme anti-inquinamento pur consumando meno dei loro predecessori. Il sistema di guida parallela AutoGuide Pro riesce a ridurre ulteriormente i costi incrementando la qualità e l'efficienza del lavoro. Compatto, dinamico, conveniente. Il Fent 800 Vario